la sconfitta di una settimana fa potesse un po' accusare il colpo e giocare oggi senza quella sicurezza che invece era necessaria altro che tutta la settimana abbiamo proprio parlato di questo oggi i nostri gol sono arrivati su azioni fatte bene studiate con il doppio passaggio quindi quello che volevamo e quello che voleva anche mister Madonia che salutiamo che sia anche infortunato oggi purtroppo e quindi l'hanno fatto i nostri ragazzi sono andati veramente bene Adesso forse il peggio sembra essere passato sta tornando di nuovo un po' di luce No, io su questo voglio che noi manteniamo l'attenzione e la concentrazione perché tutte le partite sono difficili e quella di sabato prossimo secondo me è più difficile di questa che abbiamo fatto oggi quindi lavoriamo, lavoriamo bene e prepariamo questa gara Sempre concentrati, sempre sul pezzo quindi? Al massimo, al massimo dobbiamo essere super concentrati abbiamo il nostro capitano Massimo Lanza che sembra di essere tornato un po' più giovane dell'età che ha e questo ci dà un po' di coraggio e martedì 21 aspettiamo l'esito della Corte d'Appello della Commissione Disciplinare per avere qualcuno dei nostri ragazzi che ci può dare una mano Davide Fenara, due gol a testimonianza che i ragazzi del Monreale si sono perfettamente inseriti in questa squadra Sì, noi cerchiamo di dare il nostro meglio e di metterci a disposizione da parte del mister quando ci chiama in causa però noi ci mettiamo subito al lavoro e pensiamo subito alla prossima partita In questo momento in cui l'organico del Monreale è ridotto per via delle squalifiche l'apporto dei ragazzi della Junior si sta rivelando molto importante Sì, i ragazzi, diciamo gli adulti ci stanno aiutando anche ad entrare negli schemi del mister perché noi non abbiamo mai giocato con loro però credo che ci stiamo integrando molto bene con gli altri ragazzi Per quel che ti riguarda due gol e già il bottino comincia a diventare più sostanzioso in questo campionato parlo di te a livello personale Sì, questo non importa i gol, chiunque segna va bene, l'importante è che vinciamo Oggi la partita sembrava facile poi per un po' la squadra si è addormentata per poi ritornare carica nel finale Sì, poi abbiamo giocato come savavamo giocare noi e come il mister aveva preparato la gara e poi penso che abbiamo fatto una bella partita una bella soddisfazione per noi Tony, tre punti di grandissima importanza oggi contro il mister Carini Sì, ci volevano perché dopo la sconfitta col Villauria è stato un po' pesante perdere gli ultimi dieci minuti su due azioni quindi ci voleva dare una risvolta e il mister Carini, bene o male, è stato molto abbordabile C'era un po' di rammarico per la sconfitta maturata negli ultimi istanti della partita scorsa quindi c'era forse la voglia di riscatto Soprattutto anche perché abbiamo fatto un'ottima partita contro il Villauria e non sono venuti tre punti e neanche un punto per il pareggio che era meritato però adesso abbiamo ritrovato i tre punti con il Carini Questa vettura significa che il morale soprattutto nei momenti di difficoltà riesce a compattarsi e ad andare avanti Il nostro gruppo è molto forte devo dire soprattutto siamo molto affetati quello che noi dobbiamo ringraziare soprattutto sono i juniores che sono loro che per ora ci stanno dando anche una marcia in più Una marcia in più come dici tu i ragazzi della Juniores stanno dando quel contributo necessario a sostituire i cosiddetti anziani che in questo momento sono assenti Loro devono fare il loro lavoro e lo stanno facendo molto bene devo dire ad essere sincero Da un pochettino più maturo del calcio a 5 devo dire che loro si stanno comportando benissimo anche perché mister De Simone li ha preparati molto bene quindi giocare in prima squadra solo merita molto e non ci stanno facendo molto